E' da ieri che mi picchi, vorrei solo avere a che fare con una persona più umana, diceva un'anziana indifesa, stanca di botte e sopprusi. Nella Sicilia, dove gli anziani sono stati e restano la categoria più indifesa di fronte all'avanzata del Covid, si fa a largo una storia che mette i brividi perché sono proprio gli anziani le vittime. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su ordine del giudice per le indagini preliminari, hanno arrestato titolari e gestori della Casa di Riposo in Onnini di Enza, in Biale Lazio. Su richiesta della Procura della Repubblica finiscono ai domiciliari Maria Grazia Ingrassia, 56 anni, Carmelina Ingrassia, 51, Mariano Ingrassia, 62 e Vincenzo Alfano, 38 anni. I reati contestati sono maltrattamento, lesioni personali, violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. I pubblici ministeri del Dipartimento, fasce deboli coordinati dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro, hanno chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della Ollus, che gestisce l'attività di assistenza residenziale. La Casa di Riposo viene affidata a un amministratore giudiziario. Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Gruppo Tutela Mercato Capitali sono partite dalla segnalazione di un'anziana ospite della Casa di Riposo. Cinque mesi fa è riuscita a telefonare per raccontare le vessazioni subite. Nell'appartamento in Biale Lazio sono state piazzate telecamere e microspie che hanno documentato lo stato di soggezione e paura in cui vivevano degli anziani. Le frasi degli indagati sono inequivocabili. Ti prendo a bastonate, t'ammazzo a legnate, cose inutile, prostituta, devi buttare il sangue qua e devi morire, tanto se muori, che mi interessa. Gli anziani venivano presi a schiaffo e calci, strattonati per costringerli a stare seduti. Il ricorso a forme di violenza fisica e morale da parte degli indagati non ha assunto carattere episodico, scrive il giudice per le indagini preliminari Cristina Lobbue, ma costituisce espressione di un consolidato modus operandi, contrassegnato dal sistematico ricorso a forme di prevaricazione e sopraffazione nei confronti degli anziani ospiti, spinti fino ad atti di vile aggressione alla loro sfera di integrità fisica, oltre al loro patrimonio morale. I titolari della struttura devono pure rispondere del mancato rispetto delle norme di sicurezza. Non indossavano mascherine e guanti. Gli anziani sono stati ora sottoposti tutti al tampone per scongiurare pericolosi focolai.